Penso che sia una pista storica perché è venuto in un clima veramente perfetto che probabilmente non si ripeterà per tanti tanti anni e quindi l'annata 2010 sarà veramente un gran brunello di montaciclo Penso che possono andare sulle stesse direzioni, l'importante sia la qualità del prodotto però non bisogna mai dimenticare la tradizione e la storia da cui veniamo quindi vanno bene i computer, vanno bene tutte le innovazioni ma ricordare sempre il nostro passato Quindi credo che i due possono essere una buona soluzione Il significato è la qualità del prodotto finale L'innovazione, la tradizione, tutti sono bene se il prodotto finale è ok E la qualità di computer e le modenze funzioniamo perfetto se non perdiamo la tradizione di montacino wine produzione Il prodotto finale sarà sicuramente un bel prodotto come era stato la tipologia annata perché è una grande struttura, un grande frutto soltanto bisognerà avere un po' di pazienza prima di berla perché bisognerà aspettare ancora 2-3 anni per gustarla al meglio Quindi sicuramente abbiamo una riserva per la prossima vintage ma il corpo e la struttura del vintage 2010 è bellissima quindi l'unico cosa è che abbiamo bisogno di aspettare un po' di anni perché questo vino bisognerà un po' di più di più di più di più di più di mello per essere pronti per essere pronti Grazie per l'interview Grazie mille Grazie mille